Nick De Vries, un balancio di oggi, due finali, buone finali, credo, e un inizio difficile nel mattino con una qualificazione non così buona? No, la qualificazione... Siamo un po' di qualificazione, ma non sono molto preoccupi perché credo che possiamo fare meglio e anche, in mio opinion, non si non si può fare più, quindi credo che possiamo fare meglio. Quindi non mi preoccupi per la scuola 1, ma inizio è sempre un po' rischio, ma ho fatto un buon inizio, ma ho fatto un buon inizio, e in la scuola 2 aveva un buon inizio, quindi abbiamo perduto molti posizioni. Ecco, io era lì dove ho cominciato in la scuola 1, e il tempo era un buon inizio, il tempo era un buon inizio, ma la scuola di altri, in mio opinion, non era veramente vero. In rispondimento diceva che la scuola è open, e che vuole vedere un buon inizio, in mio opinion, non era veramente vero. E noi abbiamo finito la terza, quindi credo che non possiamo rispondre. E cosa sui domani? La scuola è quasi in vostra scuola, non pensi così? Non so, non so, non so la differenza del punto. E' proprio una differenza, penso che ciò ho gusto di un buon inizio, perché sarà la ultima scuola della maggiore, ogni ultima scuola per me. Beh, non la ultima scuola, ma... In tua cariera! Sì, sì, sì. E spero che possiamo finirlo con la championship. È difficile rinunciare la ultima rinunci della championship, la world championship, ma pensare anche sulle caratteristiche, magari. No, ma non penso sulle caratteristiche. Sì, sei sicura? Sì.